Ciao, sono Rosalind, benvenuta sul mio canale. Hello, occuposi Rosalind. Welcome to Akin YouTube Channel. Qui farò delle ricette assaltiche particolari filipine in lingua italiana. Mi è un po' voluto poter fare una filipino recipe per l'Italian language. E delle ricette italiane in Tagalog, la lingua filipina. E in Italian recipe in Tagalog. Così gli italiani potranno provare la cucina del mio paese e viceversa. Para din po sa mga Italiano, matry po nila ang mga pagkain filipino. And viceversa. Adesso vi saluto! Escrivetevi al canale, mettete il like e commentate. Bye! Ngayon po, magpapaalam na po. Kung nagustuhan nyo po, magsubscribe po kayo sa aking channel. At kung nagustuhan nyo po, mag-like lang po kayo at mag-comment. Ciao!